Il 31 ottobre scade il termine per il pagamento della prima rata della Tari. Se non hai ricevuto l'avviso di pagamento Tari 2015, collegati al sito www.comune.napoli.it e accedi ai servizi online per scaricare il modello F24 comodamente da casa. Per assistenza alla stampa, sportelli attivi presso sedi decentrate e front office tributario del Corso Lucci 66. Grazie a tutti.